Va ora in onda, Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio, la parte tecnica è da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara. Sono pronti i primi risultati sui campioni di sangue prelevati sul 21enne di Città Sant'Angelo, morto due mattine fa all'ospedale di Pescara per una sepsi meningococcica fulminante. A provocare la morte del giovane è stato il meningococco di tipo B. Campioni sono stati inviati anche all'Istituto Superiore di Sanità e alla Meiera di Firenze, centri di riferimento nazionale per l'ulteriore tipizzazione del batterio. Diverse decine le persone che si sono sottoposte alla profilassi farmacologica prevista dal protocollo avviato dall'Asla di Pescara erano potenzialmente a rischio perché sono stati a contatto diretto e prolungato con il giovane. Subito dopo la morte del 21enne, l'azienda sanitaria ha attivato un'unità di crisi per gestire la situazione ed ha avviato l'indagine epidemiologica. Circa 60 sono le persone che hanno raggiunto l'ospedale per profilassi. Ancora la cronaca è morto in Germania dove viveva da qualche anno vittima di un incidente sul lavoro all'interno di una cava. Un uomo di Tortoreto è rimasto vittima, martedì scorso, di un incidente che si è verificato in un cantiere nella regione della Baviera. La notizia è rimbalzata tra i conoscenti dell'uomo che lavorava per conto di un'impresa operante nel settore dei prodotti edili e sarebbe stato travolto da un camion all'interno di una cava. Sulla vicenda le autorità tedesche hanno aperto un'inchiesta per capire cosa in realtà sia accaduto. Si attende l'ok anche per il rimpatrio della salma dell'operaio. Si è tenuta ieri la prima seduta della Commissione Vigilanza presieduta da un esponente del Movimento 5 Stelle tra i temi all'ordine del giorno, Banca della Terra, PET-TAC all'ospedale di Pescara, TAC all'ospedale di Vasto. Siamo contenti che la Commissione Vigilanza abbia esordito ponendo il focus su due grandi sprechi della sanità pubblica e sull'occasione persa relativamente alla legge sulla Banca della Terra che in altre regioni sta rappresentando un valido strumento per l'occupazione mentre in Abruzzo, nonostante sia stata la prima regione ad approvare la legge, fatica a decollare. Le audizioni hanno confermato tutti i dubbi che avevamo espresso su questi temi nella scorsa legislatura commenta il Presidente della Commissione, Pietro Smargiassi. Sarebbe in corso di registrazione alla Corte dei Conti l'atto che rende definitivamente disponibili le risorse stanziate con il Decreto Genova per realizzare gli interventi di messa in sicurezza urgente dei viadotti A24 e A25 che collegano il Lazio e l'Abruzzo. Ne dà notizia il Ministero dei Trasporti. Nulla impedisce quindi, scrive il Ministero, il concreto avvio dei lavori di manutenzione sulla base dei progetti regolati dal protocollo d'intesa sottoscritto tra il concessionario e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nell'espletamento dei lavori, il concessionario dovrà tener conto di tutte le indicazioni fornite durante il tempo dal concedente, volte ad assicurare in ogni caso la sicurezza per chi attraversa l'infrastruttura. Sulla base delle specifiche situazioni e dei singoli cantieri, il gestore sarà tenuto a valutare le misure di regolazione del traffico ritenute di volta in volta maggiormente idonee per la sicurezza dell'utenza. Per quanto concerne invece la situazione del traforo del Gran Sasso, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta interessando la Presidenza del Consiglio perché si assicuri l'opportuno coordinamento di tutte le amministrazioni coinvolte e si individuino le misure da porre in essere per il superamento del rischio idrogeologico che coinvolge l'area. Il Governo bonificherà quattro discariche abusive in Abruzzo ed oltre un risparmio di quasi 3 milioni all'anno mette fine per questi siti al contenzioso con l'Unione Europea. In Abruzzo i siti in questione sono Ricoppo a Balsorano in provincia di L'Aquila, Colle Freddo a Penne in provincia di Pescara, Caprareccia a Pizzoli in provincia di L'Aquila, il Fossato a San Valentino in Abruzzo, Citeriore in provincia di Pescara. Un risultato che, per il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, sta consentendo di sanare una ferita storicizzata. La decisione, comunicata al nostro Paese dal Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea, riguarda un dossier inviato di recente proprio all'Unione Europea che in tutto contempla otto discariche, ma per una sono necessari ulteriori approfondimenti. La sanzione europea per gli 80 siti affidati al Commissario straordinario è stata ricalcolata in 32.800.000 euro all'anno ed è diventata invece della metà, sostanzialmente, 19.200.000 euro, con un risparmio annuale a giugno di 13.600.000 euro. Casa Cantiere di Santità è stato il tema che ha fatto da sfondo al pellegrinaggio dei fidanzati a Loreto che si è svolto il primo maggio scorso. Guidati dall'Arcivescovo, in sua eccellenza Monsignor Bruno Forza, Arcivescovo di Chietivasto, circa 400 giovani della diocesi di Chietivasto hanno partecipato ad una giornata ormai tradizionale che conclude i vari corsi di preparazione al matrimonio che si sono svolti in tutto il territorio, nell'ambito dell'attività di pastorale familiare coordinata da Don Sabatino Fioriti. A Loreto anche molti sacerdoti e coppie di sposi che hanno accompagnato i fidanzati durante il percorso. Fondamenta, muri portanti, infissi, tetto, sono stati gli argomenti simbolici affrontati durante la mattinata, in un ricco momento di festa nel teatro e lirico fatto di video, testimonianze, canzoni e riflessioni concluso dall'Arcivescovo che ha voluto lasciare a tutti alcune parole importanti nella vita di coppia come affetto, amore, fede, sicurezza, relazione, attenzione e altre. Nel pomeriggio i fidanzati si sono ritrovati nel santuario dove Monsignor Forte ha dapprima spiegato le origini storiche e archeologiche della Santa Casa e poi celebrato la Santa Messa conclusiva nella Basilica Inferiore con gli altri sacerdoti. Vera libertà, profondo amore e fede certa accompagnano la vostra vita di sposi, ha detto nel corso della sua omelia, aggiungendo che sono questi gli ingredienti di un cammino di santità che auguro ad ognuno di voi. Un abbassamento della sede stradale di circa un metro che ha fatto in parte riaprire a Chieti lavoraggine determinata, sì, nella centrale via aereo il 26 febbraio. È stato rilevato dopo mezzanotte nessun ferito perché il perimetro della lavoraggine che era stata riparata era ancora transennato. Stiamo monitorando anche il sottosuolo per capire se si tratti di mero assestamento, ovvero di un nuovo fenomeno, dice il sindaco di Primio. La Giunta regionale racconta dovrebbe stanziare i fondi necessari alle indagini così da fare l'intervento in via definitiva, mitigando i fenomeni che determinano la fragilità di quel tratto stradale in particolare. Prenderemo le decisioni necessarie a garantire l'incolumità pubblica, consapevoli che fino alla riattivazione della scala mobile dal terminal che contiamo di fare entro pochi giorni, dobbiamo garantire il passaggio dei mezzi pubblici su via aereo. Dal 26 febbraio, chiuse i bus che fanno capo al terminal è aperta al traffico veicolare ordinario. Si terrà oggi l'ultimo appuntamento con il corso di formazione organizzato dall'Arcidiocesi di Pescara Penne sul tema le persone con disabilità, problema o risorsa nella comunità, ad intrattenersi sul tema il malato soggetto di pastorale nella chiesa tra le 18.30 e le 20.30 nel sede dell'Istituto Superiore di Scienze Religiosi Tognolo di Pescara in piazza San Cetteo II sarà Don Marco Castellazzi vice responsabile dei silenziosi operai della Croce. E si terrà domani sabato 4 maggio dalle 15 alle 21 con cena sociale finale presso il Grand Hotel Adriatico di Montesilvano l'Infoday Cipas Modavi Onlus con focus su responsabilità sociale dei giornalisti sovraindebitamento ed assistenza psicologica e legale e welfare e benessere sociale con il filo conduttore della responsabilità dell'impegno sociale di fronte alle opportunità che nascono i cittadini. Lo annuncia Donato Fioriti, presidente nazionale del Cipas, centro italiano di proposte azione sociale una giornata organizzata unitamente a Modavi Onlus, dice Fioriti con un seminario, un convegno, un incontro con personalità accademiche, professionisti, operatori del sociale tutti di primissimo piano. E siamo al meteo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa cielo molto nuvoloso fino a metà mattino, poco nuvoloso dalla tarda mattinata a tutto il pomeriggio sereno nelle prime ore della sera e coperto in tarda serata con temperature da 14 a 23 gradi e ventità deboli a moderati e nelle zone interne cielo poco nuvoloso fino a metà mattino, sereno in tarda mattinata nelle ore centrali poco nuvoloso nel pomeriggio e nelle prime ore della sera e coperto in serata con temperature da 14 a 22 gradi e venti deboli Il mare è previsto quasi calmo Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne Grazie e risentiamoci Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica Grazie a tutti 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 Grazie a tutti